Vabbè, demoni Io vi faccio improntare la mia vita da cutrone fase, Alice Eh beh Eh Okaji, se lei non sta con te, se tu non la segui Magari è la donna della tua vita, ma tu non sei il suo uomo della sua vita E quindi secondo me non sono le premesse giuste per una relazione a lungo termine Che ti soddisfi Ma che cazzo Speriamo di trovare un altro demone dopo Bravo Faligname, dillo Un po' di realismo, mettiamo un po' di realismo in questa chat Si chiama mamma, bravi Ecco, potrebbe, potrebbe, non è anche sempre detto Spesso lo è Non dirlo agli altri Stai fatto pink e mi stai mega scammando Ministero origami Mi devi dare un po' di più Nel senso la mamma di Faligname Oddio Ho mangiato un murloc prima Ci sono i draghi Ingannatore Tanto il cavaliere qua Stand alone Nel senso le serie hai fatto i compromessi Ma vecchio hai chiesto Ma andare in Groenlandia che compromesso è? Scusami eh Non è un compromesso se è quello che ti chiede l'altra persona e tu lo segui a prescindere Quello non è un compromesso Un compromesso significa un'altra cosa Compromesso è che comunque qua intanto ci becchiamo un bel 12% Che se vuoi andare in Groenlandia Ma tu non ci vuoi andare Anziché trasferirvi un anno Magari vi fate la vacanza di Boh Di due settimane Quello è un compromesso No no Se no ti stai annullando Allora Cosa si fa qua? Si deve prendere il doppio pezzo Il doppio pezzo fa schifo Si rolla Allora questo Allora faccio goccia 1-1 Si si goccia 1-1 Non è il massimo neanche questo E' una cozzaglia Non dirlo agli altri Faccio il dirlo per te No era morto No Sarà a salire I tuoi servitori hanno davvero dato tutto Cazzo Allora se io prendo Il demon Mi sparo due danni in bocca Però è buono Perché in realtà potenzia lui E potenzia lui Mangiamo elementale O mangiamo mech Elementale o mech Elementale Questo è buono Perché in realtà mi mette Due demoni in campo Quindi ho una buona probabilità Di ottenere demoni Cioè in realtà Non ho tribe E c'è azione dei demoni Quindi potrebbe darmi il monile demoni Che è quello che vogliamo Trovate la metà strada In mezzo all'Atlantico Su una piattaforma petrolifera Ma comunque Okaji Se lo streamer della tua vita Ti chiedesse di fare la sub No vabbè Che tempismo incredibile Vabbè Chapeau Non dirlo agli altri Ah faccio il tipo Grazie Okaji Della sub Grazie mille Che hai fatto? Questa è una sub Per aiutarti ad andare in Granlandia Allora Che merda è? Dove sono i miei demoni? Dove è il mio monile demone? Ma poi perché quello dei generici? Avevo due generici Siamo morti I doratori Non è vero che siamo morti Però non lo siamo messi bene per nulla Devo reggere Su fight Doppio 3-1 Il drone mi ha dato Il drone Ah l'unico pezzo Traverna 4 Quindi probabilmente va preso No è fango Credo qua Ma se no In realtà questo è buono Improvvisione mecca Faccio così Accordo bot Bello Bello Ok Ciao mech Piccolo è forte mecca con questo Si sembra che puoi trovare draccari Credo che ora Convenga cercare altri 3-4 Altri droni E altri magnetismi Prima di salire Anche se dopo è salito E ha battuto l'ich king Lui si presenta Con i soldi Elemental Salire al 5 in questo momento Non ha senso Inrolliamo Assolda pure Una di queste reclute Lo scettro Eviterei Da vabbè Ma che roll sono Non c'è niente Quello lì Baffa tutto Eh non è andata bene Qui Non è andata bene Devo fare questo qua Ma è stato un turno Ridicolo Che facciamo Prendiamo il 2-1 Dovrei vendere il 3-4 Per fare quello Baffa 1-2-3-4-C Per forza Il tempo Il punto è che qua Dobbiamo reggere Perché poi arrivano i doratori Cioè se fossi andato su Se c'è i draccari Dove essere un'idea però Madonna è debolissimo Cioè ci stava salito Madonna Che cazzo è? Mi ha dato anche vinto Il fight Forse avrebbe restato Forse dovevo salire L'ho abbastanza forte Per salire L'ho sperato In un Mac Da mangiucchiare Va bene Facciamo così Il punto è Che così Non mi arriva Il magnetì Cioè Il problema è questo Che non mi arriva Il monile dei mech Perché mi arriva qualcosa Demone a me qui Però non potevo Cioè rollare al 4 Alla fine si viva solo Per trovare un altro di questi Ma niente Vediamo cosa esce Frizza Frizzareste l'Urzul Il punto ragazzi Che i demoni Senza il rewinder Sono infattibili Quindi non Senza quello Che non ti fa prendere danno Quindi in questo momento I demoni sono off limits Trocca trovare qualcosa Di generico Tra i demoni di mech Tipo pompa locanda Ecco Un monile del genere Ci fa fare la build lo stesso Ragazzi Ma voi lo dareste via Cutrone Più Pasalic Per cambiasso Fantacalcio Col modificatore dinamico Ovitereste Cutrone Pasalic Uh Modificatore dinamico Modificatore dinamico È semplicemente Modificatore Ma che ha 6.25 Fai più 2 punti Modulo è buono Mantieni la pressione Allora in realtà La canna da pesca Oh in realtà La canna da pesca Non so Lo ritieno La canna 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 Esattamente Quello Che dicevo Forse la canna La canna La canna La canna Senza pirati Però c'è può uscire Quello che pompa Locanda Moira Se no prendo Più 8 Più 8 E stop Però è vero Abbiamo il dorato Dai prendiamo questo Sappiamo che è qualcosa Più divertente Bello Ok Beh dai Poteva andare sicuramente Peggio di così Roll Doppio module Uno si piglia L'altro non serve Trae azzardarlo Il vincitore Per me si può azzardare Non lo so Troppo gridi? Sì dai Troppo gridi Mamma mia Che giocata Che giocata Incredibile Ah mi andai a invertire Ma ok Io mi tengo a paso Di sculturone Dipende come stai con la difesa Cambiare In questo caso Ora tornare a terzino A destra Potrà meno bonus Quindi mi stanno inculando Insomma Eh immaginavo infatti Anche io Ho di questo avviso Cazzo Cazzo c'è la frippa Si fa Beh Beh Direi che si fa Mamma mia Quindi possiamo capire Perché è in questa reazione Ok Se non separata Quando poi salta lui C'è i demoni Quindi mettiamo il più grosso davanti Vediamo se riesci a stare in testa Alla classifica Cazzo è grosso 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 È una che mi è scena Mi è uscita l'arro C'è da stare un pochettino Più tranquilli No anche perché comunque Arrivano questi Trovano draccari Qua è broken Arrivano infiniti doratori Si attiva il murloc Serve il dracco draccari Fonda Moira Che schifo Un servitore in meno Una moneta d'oro in più Anch'io avrei scelto quello Dov'è lo scontro? Eeeh Mettere questo qua Non è stato buono Però il problema qui è che Beh si deve rollare Reaper Reaper ci sta Problema Forse il telescopio lo scacciamo qui Forse il telescopio lo scacciamo Vendo questi due Moira E questo Vabbè Mi stai dicendo che non ti interessa Vabbè Non sono sicuro di voler fare la cattinuzza Se non è rotto E' stato un errore Secondo me Mettere il modulo separato Di qua Poi era meglio vendere il modulo E tenere O la seconda Moira Vabbè Questo comunque va qua La catena si fa quando si ha generazione costante di magnetismi che al momento noi non abbiamo Continua così Forza Questo è molto più scarso di quello di prima Ragazzi ho fatto Però perdo lo stesso In quello particolare Ho fatto la La giocata qua Di Dare il magnetismo Perché se trovo il 3-4 Che attivava il magnetismo Era fortissimo E' quello che cerco Sono 15 questi Qua Dracarys Sarebbe stato Naz Il mech 3-4 Sarebbe stato forte E non abbiamo trovato nulla Però Spero di beccare il morto ora Dai Morto è uscito Ma dai Ma che schifo Oh Finalmente Finalmente Allora Via questo Sono in cima alla catena alimentare Sono in cima alla catena alimentare Sono in cima alla catena alimentare si mettono questi e basta e ci si diverte si frizza qua belli loro e figata finally come li vediamo io nel posto di buddy bella novità una bella e piacevole novità si trovo draccali ragazzi faccio saltare il 4-4 quindi non vogliamo comunque lo vogliamo accoppiare secondo me comunque si accoppia i droni vanno dopo il murloc è giusto avete ragione vanno qua ovviamente è uscito subito il dracco cazzo si riesce a fare lei allora se faccio questa cosa vendo qui? 46-32 faccio questo ho 18 vendo lui ah si gold al murloc dai divertente vendo questo via anche a me non piaceva eccoti una moneta d'oro per il disturbo distruzione bene 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 introsi implora misericordia e vabbè questo qua qui si cerca tipo di questo continua così forza ho venduto droni ragazzi quando mi sono accorto che cioè volevo il murloc wow una moneta che basta basta però close ma quanto è stata bella ragazzi sta build sono contro demoni è bello ma vabbè è figo ma non c'ho spazio è tardi stai davvero creando una grande armata bisogna trippare lui e basta praticamente basta i modi non spostano un cazzo bella scelta molto tattica uhlala meglio assoldare una recluta finché puoi farlo assolda pure una di queste reclute ah e chiudo con occhi della madre terra sul drone spettacolo oppure chiudo sul guardiano dai facciamo doppio doppio drone che è bellissimo doppio drone è troppo è troppo pulito io lo dico sempre fai le cose in grande o non farle affatto oh mi ha tirato la spetta però ho goldato quello che era la cosa più importante l'ho messo qui però è venuto grosso 3.315 100% di win rate eh la build è la build mech perfetta spettacolo devo metterlo questo qua giù sarebbe stato ancora più grosso più 90 bella dai pegato per dei rossi abbiamo accacciato dei gran bei primi quindi bella stricca bella stricca